Un po' meno di 50.000 tonnellate, 500 al giorno, equivalenti a 18 camion. E' il quantitativo dei rifiuti che saranno trasportati in Puglia per alleviare l'emergenza che sta attanagliando la Campania. Ad ospitari saranno le tre discariche della provincia di Taranto, che si sono aggiudicate la gara d'appalto bandita dalla Presidenza del Consiglio, ossia le due vicine al capoluogo e quella di Grottaglie. I dettagli al protocollo d'intesa sottoscritto due giorni fa a Roma dagli assessori regionali all'ambiente di Puglia e Campania, Lorenzo Nicastro e Giovanni Romano, sono stati definiti. I rifiuti speciali non pericolosi già trattati in Campania saranno controllati dalle agenzie per la protezione ambientale, dall'esercito e dalle forze dell'ordine e viaggeranno su camion con cassoni a tenuta stagna. Un gesto di solidarietà ha detto Nicastro per alleviare disagi a milioni di cittadini innocenti. Le responsabilità perché quelle sono personali, che sicuramente ci sono, perché qualcosa non funziona nel ciclo rifiuti della regione Campania. Ma parliamo di responsabilità di una, dieci, cento, mille persone, ma in realtà l'evento è catastrofale per milioni di innocenti. La Campania ha garantito la massima sicurezza dei rifiuti che arriveranno in Puglia dalla prossima settimana e ha previsto una somma di 500 mila euro da destinare ai comuni interessati come ristoro ambientale. Fra i sindaci qualcuno ha mugugnato e lunedì ha infatti previsto un incontro con il governatore Vendola, ma l'assessore provinciale all'ambiente di Taranto, Michele Conserva, garantisce che non ci saranno proteste. È una situazione ovviamente che ha destra delle preoccupazioni, che però è ovvio che di fronte a un impegno così importante quale è quello nazionale non ci si può tirare indietro rispetto a quelle che sono questioni di emergenza di questo tipo, soprattutto in funzione del fatto che parliamo di persone, di popolazioni e quindi gli aspetti sociali e sanitari vanno tenuti in debito conto.